Com'è stato a rientro? Riela full up non mi ha mai ispirato sinceramente Allora calco il Conqueror Voli con l'aftershock Vabbè l'altro uno è abbastanza bene Pensavo peggio sinceramente Sfattogliere il sub da una persona che non fa più live Dipende se hai il Prime Devi aspettare che finisca il mese di sub Dopodiché la fai a chi vuoi Cioè i sub durano un mese Cioè se il Prime è un conto Se è pagante è un altro Ciao Absolute Ah capito Ho capito Ottimo Stavo uscendo da Fiat Ho visto a culo e mi sono affiondato Bravo ragazzo Ma mi ero spaccato Vabbè Grazie Plox Artist Benvenuto nella Fiatrix Army Grazie il tuo Amazon Prime Bello Grazie mille Bella Jenny Come ci sia Disabona Eh non si può Mi dispiace Dal mio canale non si può Ho messo una 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 Come si dice Ho fatto una legge Perché si sono anche politico E in cui Se ti abboni Sarai mia vita Mi dispiace C'erano da buttare Oddio Dipende dai soldi O se è una figlia Grazie Kiwi Bentornato a Fiatrix Army Bello grazie agli otto mesi Aiee dagli neri Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Signori Ok Dov'è Qua Uh Il mouse A stiera Un attimo Che mi ce l'ho riprendere Ah cosa abbiamo Ordoran's Ring C'abbiamo la Corrupting Potion Andiamo con la Corrupting Andiamo con la Corrupting Se è un contro Yasuo Il sustain fa comodo Ecco va Già spammono i ping E già spammono I'm pregnant No Bobolops Guai a te Bravo King Allora Concentrazione Stiamo rigiocando Se Giovanni a P Queste sono le rune Non saprei In realtà Ho visto gli scaling L'avevo già giocato Giocata Pinnacoli pendenti Ottima idea Ho già giocato Se Giovanni E full AP mid Non è male Però Diciamo che Quando sei abituato A giocare A Mumu e Malphite Full AP Se Giovanni Sa un po' me Perché Non ha gli scaling alti Come A Mumu e Malphite Quindi È come giocare a Mumu e Malphite Un po' più debole Però 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 C'ha il super E Sinceramente Non mi ricordo Nemmeno le spell Cioè O meglio Mi ricordo le spell Cosa fanno Devo un attimo Abituarmi Mettite un millimetro Così Non sbagli E invece C'è sbaglio Vabbè c'abbiamo il biscotto Penso che mi farò Esplodere Eh cosa No mi dissocio Mi dissocio Ragazze Delle resub Grazie mille Bello Delle resub Bentornato Se non c'avesse Quello scudo Di merda Ogni sempre È già bello Che è morto Yasuo Ok Eh A torri Su via Eh Allora Non so Sinceramente Da dove Oh Eh Ok Ecco qua Allora Dunque Non sta andando Back Lui Non so in realtà Cosa maxare Sapete Forse W Mi conviene Boh Penso di sì Ecco Forse Forse potrò killarlo Di Ema Non so come funziona Quindi Va bene così Eh no Io rimango Cazzo Non me ne vado Aiuto Scherzavo Niente Dicevo Cazzo compro Vabbè Il drag seal Questo E le scarpe Pronto? Sì? Eh buongiorno La signora Anna No la signora Anna Dopo che pochi Lei devi tirare Ah Dove tirare un autoattacco Allora ho fatto bene Tirare l'ignite Elenco Player Xfunk e Eren X100 Ritorni al Fielic Grazie mille De cheers Bello Grazie tante Non posso andarci Allora La hai dato a heal Eh che ha detto Che ha detto Ma grazie Franz Benvenuto nella Fieric's Army Bello Tic Ah Capito Capito Io Procodoi Volevo spammare Ma non mi fa condividere Quindi mi arrangio Come no L'hai appena fatto Grazie mille Bello Tic Oh 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 Mamma mia Quella ulti No E basta Eh si Come ci arrivi Col wifi E grazie mille BDM Tic C C Affanculo Se ne andai Affanculo Lasciate in pace Ragazzi Grazie Grazie mille BDM Benvenuto A Fieric's Army 865 Vendiamo un biscottino Dai E si va Facciamo di notare Che c'è questo vivo E' molto bravo A giochi Intelligenti Secondo perché Ne sono felice Franz Sono molto bravo C'ho i miei dubbi Però Se è divertente Ti ringrazio No No Ti spacco Ti spacco No no Prego Prego Ecco Per essere stato Chiaro Ragazzi Non me lo fate Ripetere E' molto bravo E' molto bravo E' molto bravo E' molto bravo Vabbè Vabbè Se ne fotte 130 di scudo Welcome back to the Fieric's Army Caro Yasu Mi regali una rusfata per l'anniversario What? Perché non è morto? Lo com'è dove c'esse più danno O che dovesse subire altro danno dopo Questo non è così Vabbè Il suo panic flash ragazzi L'ha salvato Non pensavo Va Grazie Giulio Tieni questa ruspata Anche se però sono triste Perché avrei voluto fare la kill Quindi è stata una ruspata infelice Vabbè Andrà meglio la prossima volta Ma questo è sempre qua Oma che è Andiamo back Grazie nameless Bentornato per i 21 mesi Grazie mille Bello E si torna Max alla E Ma perché W mi dà wave clear Mi dà dei danni ad aria Non so E' forte Ciao Fieric Alla fine mi hai convinto Non mangerò le nuggets Comunque Volevo chiederti Se posso dire una cosa Fiericruspa 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 Diesis 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 Grazie Le mie orecchie Hanno già sopportato Abbastanza Oh Sotto Ne raffanculo Cosa fai Ok Grazie mille Republic Grazie Delle resub Carissa Il bot Che legge Il messaggio Dei cheers Parta Cento cheers Jaxfar Oh Ancora Che bot Che io ho tirato Alla faccia Addirittura Addirittura Il flash Addirittura Il flash Ma ne siamo Sicuri Grazie Grazie Cloux Le cheers Eccolo Li altri Cento Se te lo stai Chiedendo Sto mirando Alla ruspa Davvero Quando arriverei a mille Parti dalla ruspa Solo per te Ci aspettiamo Con ansia Allora Necessito Ipabase Va bene Va bene Anch'io Amigo Ok Via Mamma Abbiamo mostrato le becca Le schicche Di Ludens Max RW è stata un'ottima idea Riga Guarda qua Faccio Fa sparire la wave Salve Monsignor Fievic Non ho nulla Da dire Però Viva Likis Eh sì Mait Però Mi disp Boot Ma perché Twitch Ha subito più danno La ulti La E Che cazzo è successo Qualche funzionamento Non riesco a capirvi Sto c'è Grazie Fabio Bentornato a Felix Army La ulti Non so che è successo Non l'ho vista Ma ho sbagliato io Evidentemente È in cd Eh ma Non è partita Qualcuno può parare La clip Magari È stato Winwood Di Yasuo No Ha ultato Non penso Sparito Come triple kill Mi è troppo vicino Quindi non parte Se sei vicino La Yerx Funcare di 600 E adesso voglio La Ruspa Ah Già arrivato Già arrivata La Ruspa Faccila vedere Grazie a te Matte Bella Eddie Bentornato a Felix Army Carissimo Grazie Il quattro dicesimo mese Adesso prendiamo questo Vaffanculo Tenere ad andare Vaffanculo Oh ma poi Non rubare l'insalata Grazie Mamma mia 900 gold Ah 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 Oh 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 cazzo Ahè No What Ma c'ho le summon Rinvertite Ecco Ecco perché Perché c'ho Ma che Ma che cazzo Conosso se non ste cose C'è R Perché Z 1985 Pek I Reynix 100 Ma io Guarda Vabbè Scusate Perché Non me lo faccio Ah ma Perché Perché Sono qui Perché C'ho Le summon Invertite Vabbè Comunque C'è io Ho giocato Io ho giocato Con le summon Invertite Fin dall'inizio C'è io Kla Descini Punto Addio Sì T'è andata male No la signora Anna è morta Mamma mia che stop Grande voli Non lo so Probabilmente si Grazie a Franz Dei Circe e Dado Benvenuto nella Felix Army Non so ancora perché Benvenuto a S.E.L.P Benvenuto a S.E.L.P Benvenuto a S.E.L.P Bentornato sesto mese Grazie Abbonatevi subito A questo fieri assolutamente Diglielo cazzo E bacca Bentornata Sto bene grazie Grazie mille carissima Come stai Oh ma non riesco a prenderlo Klaus Sottolineato che Iredix100 Messa oggi si raggiunge La rusca Addirittura Klaus Attenzione va benissimo Come c'è Jax sta qui Secondo me Non è che c'è Ah va Ci sto andando io Tutto lo scudo E tutta la madonna In croce Ma come fai con un pompa Ma che è tutto guardato E può essere No invece no Grazie albume Bentornato bello Una fix arm Se la neve viene sotto casa vostra No fa il culo la neve Non può piacervi Dà soltanto fastidio Ma come fa E piate un po' di danni Mamma io Ma che so Soltanto sub oggi Oh Matti Ma grazie Ammon Grazie i cheers regalati Bello Ragazzi Cheers Klaus Ehm 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 Ma quindi la ulti non parte Se si è attaccato Non capisco Really Oh Gesù Ma non ce n'è uno in positivo Vabbè Hai visto Zero Vabbè ragazzi Sostenta la live Abbonatevi anche voi Ecco cosa posso dirvi Vuoi fare una partita più bella Ma Sono veramente l'unico Un po' fiddato Ciao Edo Abbastanza bene Bravo Eccal Avete visto Benvenuto Una Felix Army Carissimo Benvenuto Grazie il Prime Gli sniper più fa danni Ah L'ho detto che La seconda volta che gioco Seggioani Non era mica una cosa Non era mica una cazzata No spoilers No spoilers For the meek Ma Ma Bella Bella ritecco Il mese Che mi ha regalato Dick Siamo quasi a un anno D'age Fieric sexy Fieric sexy Vabbè Vabbè Ok Ok Sapevo che ce n'era un altro Mi fermo qua Prendi di morire Possiamo andare back Adesso Possiamo andare back Benvenuto Una kill Come la prendo Come la faccio Una quadra Scusami Il team di rico Sta a fare il cazzo Che gli pare Vabbè Comunque F R A N Z 1985 P K Rain X 100 Ovviamente L'unico punto In cui non guardo C'era il fungo Ma è ovvio Ma è ovvio Devo fare flash coup Sono insta morto Vabbè Grazie Franz Grazie Cheers Sto game è andato Cioè Dove tirarvi una svegliata Porca puttana Non posso essere l'unico Obiettivo Testata Cosa potevo fare Chip Io volevo fare flash coup Per andare di qua Se esso attaccato Un po' di più voli Vi dico Vabbè Non si accorge Sto Haccio flash coup Scato Invece niente In che lo stai giocando Master 130 LP Bella Oxi Bentornato a Felix Army Bello Grazie il quattordicesimo mese Grazie mille Carissimo Ma Vabbè Di nuovo Di nuovo Di nuovo Dic Dai da Era ovvio Non possiamo vincere Noi abbiamo anche un ottimo team E quella è la cosa brutta Cosa è che noi abbiamo un ottimo team Abbiamo una fronte Abbiamo un sacco di cc Abbiamo Kyle E' andato il giudocchio a via Vaffanquilla la neve Non può piacervi Da soltanto fastidio Cloud sottolineato che Irenix 100 Ormai la facciamo Oh Tuck Tuck Oh BOOM E' arriva il pezzo Buono Sono riusciti a fare cose Incredibile Incredibile Ma c'ho soltanto dei soldi Che mi girano in ste cuffie Non sento niente Tirate giù quella Grazie A Corova Bentornato Una Felix Army Grazie Vile del R-Sub E' andato molto bene Il Games Week Grazie Molto stancante E' molto bene Signor Cloux Grazie dei cheers Prendi questa russ Benvenuto nel club Maniac Bentornato a Felix Army Grazie al secondo mese Grazie mille il secondo mese Bello Voglio svelarvi un segreto Ragazzi Visto che io E' Visto che io sono Molto trasparente Con voi Come streamer Come amico Come tutto quel che vi pare Dovete sapere Che io E' Sto Lottando Possendo andare bot Sto facendo richiesta Per diciamo Un Una cosa Per Twitch Diciamo Una partner Maggiorata Una percentuale più alta E' Ma come vi pare E' Loro vogliono vedere I sub paganti Cioè quelli che Preventi li fanno arrivare In tasca dei soldi Non sono abbonati Non sono abbonati In 28 Ma è nel 9 E' neri In Comunque come va Vai Via che muoio Via che muoio Dai 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 Ok Ci siamo E in poche parole Twitch I numeri li ho Ma Twitch comunque Interessata ai sub paganti E ai cheers Perché Dovete sapere Ovviamente Sono quelli che fanno arrivare In tasca Twitch dei soldi Ok Prime alla fine Cioè Pagano noi Ma loro Di per sé Non arriva niente dentro Se invece La gente fa Cioè se un canale Ha tanti sub paganti Gente che sborsa i soldi Anche sub regalati Cheers eccetera E' molto più felice Quindi vi dico tanto Che a sto periodo sto Diciamo Lavorando a sta cosa F R A N Z 1985 Pech Grazie Franz Grazie mille bro Grazie i cheers Yolon Bentornato a Felix Armi Carissimo Bentornato Easy one shot Metteremo questi poni In questa casa di merda Easy one shot Ragazzi Grazie player di cheers Quindi ve lo Ringraziarvi particolarmente A tutti voi che state Vi state abbonando Pagando soldi E state donando cheers E' molto importante In questo momento Per me Tutti gli abbonamenti Sono uguali Quindi anche i prime Ragazzi Per me è indifferente E voglio semplicemente Di dire che questo E' un periodo importante Che quindi Ogni sub pagante E cheer Mi aiuta tanto Più del solito Per quanto mi riguarda Sub paganti O prime E' uguale per me Tranquillo Non sentitevi in dovere Di spendere soldi Se volete farlo Chi è che magari ti aiuta Grazie Sanji Salvatore Che è in x 140 E allora Beccati questi Virgola Di non fare preziosa Tuk Grazie Gesù Grazie a tutti ragazzi Gentilissimi siete Gentilissimi E potremmo farlo Se venissero tutti Volentieri Grazie Bello Dei cheers Ciao cat E che schifo I poveri Che schifo I poveri Bello Oh Oh Sì Vabbè Ma che cazzo Ma ulta Beh Io vorrei prendere il Mejai Però Cioè Non mi sembra un Gundam Mejai Questo E' quello il problema Sa che prendo questa Eh no Non lo vedo La Gundam Mejai Mi dispiace Questa la vinci se si svegliano Grazie mille Franz Grazie Circe Grazie anche alle Axeletia Benvenuto Benvenuta Nella Fierix Army Grazie mille Del Prime Zazugge 8 mesi Di T3 Oddio Che schifo I poveri Grazie mille Fierix Stai Ma che casino Che casino Ma che sono tutti sti soldi Ragazzi Ozo Ice Mamma mia Ma che sta succedendo Ma che sono tutti sti soldi Impazziti Sti impazziti Mamma mia Mi hai chiamato la banca Adesso Mi sono fatto Beitare All'altro Speravo non avesse Riflesse Sti cazzi Sti cazzi Sapete che vi dico Sti cazzi Oh Sti cazzi Sti grandissimi Cazzi Della ulti Tanto ce l'ho sempre F R A N Z 1985 Pech E X100 E l'ora X Gentilissimi ragazzi E sta prendo io Grazie Andiamo a prendere questo Vai Chip Certo che lo farò Grazie Franz Mamma mia Spacca tutto Oh ragazze Si è svegliata Stavo 1-4 E ora sta 6-4 Ma che è È cheating Brava Mamma mia Mamma mia Se la neve viene sotto casa nostra Andiamo un po' caccato fuori dal vasino Non può piacervi Da soltanto fastidio Oh ando vai Lo dico io A fa culo Ecco A casa vostra Perché tipo Il nostro coplaner non partecipa al game Insieme a noi F F L A N Z 19085 Pech E Remix 100 A casa A Per i soldi Grazie Franz Avete visto Avete visto per i soldi Si vince Un game difficile come questo A chi do l'honor Buon lui Quello che ha fatto meno disastri della partita 1-3-22 ha fatto Bravo Misco 22 lp Ok Vabbè dai Ci accontentiamo Lì Qu'è Io Qu'è ��